questa è la modifica della ventola comando manuale è stato aggiuntato questo cavo qui sul positivo della ventola il cavo che passa qui sotto va lì dietro dal positivo della batteria con il fusibile c'è il cavo che va sempre lì dietro dove ho posizionato il relè tutto lì dietro e qui ho posizionato il tastino che mi permette di attaccare la ventola a piacimento anche a motore spento perché nel 1100 multipoint la ventola appena si gira la chiave che si arresta il motore la ventola si spegne in questo modo posso farla girare anche a motore spento